questo è il cielo che ci piacerebbe vedere ogni notte da ogni angolo della nostra città certo però nelle nostre città abbiamo bisogno anche di illuminare tutto quello che ci sta intorno e così accendiamo i nostri lampioni se questa luce però viene diretta in tutte le direzioni del cielo beh si diffonde anche sopra e cancella molte di quelle stelle sopra le nostre teste se la luce è diretta in tutte le direzioni anche verso l'alto viene diffusa e di conseguenza ci cancella anche le stelle che abbiamo sopra di noi ma immaginiamo per un attimo se potessimo mettere una sorta di calotta proprio qui sopra e potessimo coprire tutta la parte di luce che va verso l'alto in un attimo sarebbe evidente come la luce viene diffusa verso il basso si riesce finalmente a vedere per strada e soprattutto la parte alta è completamente coperta di conseguenza verrà lasciata alle stelle sopra di noi ieri è stata la giornata della lotta contro l'inquinamento luminoso sì perché questa luce rivolta verso il cielo non solo dà fastidio a noi e non ci fa vedere le stelle ma crea tante complicazioni anche a molte piante ed animali stiamo attenti a come dirigiamo le nostre luci con questi sistemi o con sistemi anche più efficienti piatti che mandano la luce solo verso il basso forse un giorno torneremo a fare le nostre osservazioni non solo dentro i planetari ma anche sotto il cielo stellato delle nostre città e allora buon cielo a tutti